Con la proiezione del film Italo di Alessia Scarso e del cortometraggio Senza fretta di Ivan D'Antonio si è aperta la ventesima edizione di Roseto Opera Prima, la rassegna che vede in competizione le pellicole di giovani registi da ieri e fino al prossimo 18 luglio. Sette i film in concorso, sei i corti, diversi giovani registi e attori che saranno ospiti nelle serate di questa settimana. Intanto numerose le persone presenti ieri e desiderose di salutare o fare una foto con alcuni dei beniamini del piccolo e grande schermo presenti infatti quali ospiti d'onore gli attori Luca Argentero ed Edoardo Leo. Il piacere è nostro di venire in ogni posto dove si fa il cinema, si fa resistenza culturale in un paese che ogni tanto si dimentica che il cinema è invece realtà cultura, vedere che una manifestazione resiste vuol dire che è fatta bene ed è il motivo per cui siamo venuti. Il consiglio vero è quello di seguire un percorso vero, iniziare studiando, provando a montare qualche piccolo spettacolo a teatro, sperare di essere scoperti in qualche modo. C'è una componente di fortuna ma questo credo che valga per qualsiasi mestiere. La madrina della serata inaugurale di Roseto Opera Prima è la showgirl e attrice Anna Falchi, arrivata nella città delle Rose con un lungo abito verde a bordo di una Maserati. C'è poco spazio purtroppo al cinema, per esempio per le opere prima, per i film cosiddetti piccoli, giovani, di produttori indipendenti, quindi è molto importante portare il cinema alle persone. In questo caso Roseto sta facendo un grandissimo lavoro, non per niente alla ventesima edizione, quindi sintomo di successo che si va per la strada giusta. In Piazza della Comune sta avendo un successo ancora più grande rispetto a quello precedente, è una piazza molto ampia, molto bella e quindi anche all'aperto è uno spettacolo gratuito, i film sono gratuiti, quindi invito tutti i cittadini e i turisti a venire a visionare questi splendidi film Opera Prima.